ciao a tutti ragazzi e bentornati su btc con una puntata su fifa con johnny crick no sto cazzo johnny crick vai a fanculo tu e johnny crick no con il vostro caro kiba che dopo nel 2011 io ho smesso di giocare a fifa quindi questa per me è una novità tante cose nuove come ho detto nel mio ultimo video stiamo giocando parlando non dice così dice così ma in realtà lui sa giocare a fifa non vedete che non è vero sono una merda io qualsiasi gioco che faccio sono una merda devi capirlo anche se sembra che io sappia fare qualcosa non lo so fare io faccio tutto a caso parla lui che c'è con fifa 11 per quattro anni e sfondai pure una scrivania ecco perché per un rigore sbagliato gol è seduta prima che quando tocchi la palla ma tu stai registrando si sto registrando comunque questa puntata registrando e spero per te perché io se no non lo rifaccio puntata strana perché vabbè voi direte ah cazzo stai insieme vabbè abbiamo fatto altri gameplay insieme nello stesso luoco e allora abbiamo pensato che cazzo facciamo insieme ancora io ho detto ma scusa ma facciamoci una partitella fifa 14 dato che tu lo stavi facendo naturalmente io non ci so a giocare vai vediamo un attimino com'è la storia però opposto una condizione ovvero sia che non prendessimo squadre troppo ma quello non era fallo non era fallo no a condizione che non prendessimo squadre troppo tipo quelle che fanno tutti che ne so la juventus il real madrid da che cazzo ha fatto le tirate grazie non ho fatto niente ma hai fatto una gentilezza troppo accorta il real madrid del barcellona lui voleva già prendere il bayern monaco ho detto no senti prendiamo delle squadre che non a cui con cui non non gioca nessuno su youtube penso quindi alla fine cosa abbiamo fatto tu ti sei preso il 20 20 30 30 io mi sono preso invece il amiceffo sono fallita sta partita e io che ne so tu ti sei preso il panatinaikos panatinaikos ragazzi quindi squadroni mi hai spinto e mi hai spinto nell'aria comunque quello era rigore quello era rigore ma 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 se l'arbitro non ha detto niente vuol dire che non c'era niente dai ma sono delle squadre così forti che quando corrono c'è la melassa che cazzo sta accadendo noi abbiamo giocato al campetto ieri calcio in gabbia abbiamo vinto contro i giovani boom giovani fan di btc specifichiamo è spiegato aspetta ma ma hai dato un'impostazione classica no 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 sicuramente quello che piace a te ok spiega che cazzo vuol dire in caso non scapissero lo sanno molto meglio di te mette messi insieme che cazzo ne so dai io sono quattro anni che non compro fifa anzi adesso con l'ultimo sono cinque mi sa no johnny creek ho a fanculo questo mi sa che metterà il bip come al solito è un saluto a john io stimo tanto il tuo lavoro infatti non lo vorrei mai fare questa era attiva no ed è una bestia mia per btc note perché perché guarda che cazzo di giochi che fa ma vaffanculo guarda che cazzo che cazzo era di merda vuoi dire che faccio io guardate io mi dispiace mi dispiace tanto per chi mi segue perché mi conosce per chi sa in genere io come opero nei gameplay o nel nei video quindi parolacce cose ma sono ospite temporaneamente a casa di curo quindi onde evitare domani è l'ultimo domani io parto questo è l'ultimo giorno quindi onde evitare di lasciare un brutto ricordo di me sui genitori che tanto mi vogliono bene madonna no che culo di merda che c'hai dicevo giusto per lasciare un bel ricordo di me ai genitori sto evitando di gridare di dire brutte cose insomma sto cercando di fare il bravo ragazzo quindi poi dopo quando torniamo a casa quando torno a casa quando torno a casa ma poi io stavo già messo a me conto di cazzi non si no ma lo sono cinema che ne che cazzo ce ne frega e ma dobbiamo parlare tanto no e che cazzo e che dobbiamo dire no ragazzi la temperatura fuori è alta è alta veramente tanto alta e siamo in montagna qua no si campagna in campagna siamo in campagna in campagna no ragazzi questa abilità è abilità guarda si ma non abilare l'averlo così ma manco diego lopez in porta va è l'abilità nell'averlo distrutto proprio ma guarda sarei tentato di farti un fallo da dietro ma o per la terra vai 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 e vabbè ma mi servono il giocatore in campo poi che cazzo mamma mia mamma che cazzo fai tu quel c'è il mio giocatore si ferma si guarda la palla che sta arrivando in gono mica salta va in elevazione colpisce di testa e guarda triangolazione ma che triangolazione ma che triangolazione non è manco un triangolo è un qualcosa è un quadrilatero o un isoscele nemmeno uno scaletto e la quadratura del cerchio che cazzo sta succedendo in area di ricorre no 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 tira no ma tu ma sta registrando il microfono giusto e che cazzo ne so io non lo so papà un culo papà niente papà niente papà niente questa era una triangolazione va ma questa non è la triangolazione guarda fallo bastardo bastardo questo era fallo non è vero proprio nella vita fareva guarda la si ma te l'ho fatto dall'altra parte si sente che ho preso un po di accento napoletano né non fatelo mai parlare ci sono no non ci sei no minchia porti se non minchia più ti farei dei miei attaccanti che quello era un tiro è quello quello che ho fatto era un tiro non era un passaggetto portiere comunque mi ha appena dato del kebab baro prima di iniziare però non mi sono offeso perché sembra vero mochia per certi versi e mo sembriamo tutti va poi chi siamo vabbè poi io sono ciccio di una banda di deficienti questi siamo e la banda due siamo una banda che poi no e se quello non era fuori il gioco io sto a milano che poi lui mi fa ma dai si è solo stasera quella che della delicata sta uscendo e vabbè ma tanto se non mi si vede mi si sente tanto basta che parlo ma che cazzo a parte che vanno tipo nella melma ma non ci sono ci sono ci sono ci sono già ci sono ci sono tanto no ci sono minchia ma capino ma capino capino rispetto a capino che poi mi fa no ma registriamo poi scusato ho fatto bene o no poi tutto dormi la sera roba del genere dovremmo registrare anche la notte non stop per poi poveri utenti 150 persone che ci seguono che in questi giorni che tu stai qui non sto postando puntate eh ragazzi non è colpa nostra noi non è colpa mia ma 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 fa un culo ma che cazzo mi mi devi sempre incolpare perché mi demoralizzo la bla bla non so più parlare ragazzi no no non so più parlare io basta è finita è alla stai zitto stai zitto parlavamo di che babbari ecco a proposito ma io non stavo manco guardando avevo un braccio davanti mi stavo grattando la testa no 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 e mai edizione corri aia cressa la pressing pressate 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 come se non ci fosse un male lui va guarda mi hai fatto fallo no tu mi hai fatto fallo ma tu mi hai fatto fallo e vedi vedi che sei stronzo pure l'arbitro lo sai infatti abbiamo fatto un po di un paio di partite giusto per farmi riprendere la mano di questi anni senza fifa e ma io non so giocare quello quello è il fatto lui continua a disinuare che gli arbitri mi no no mi fa davvero favoriscono ma non è vero va va al portier va al portier no gol gol sforzo extra ho sbloccato un trofeo addirittura segna che un tiro in scivolata di prima intenzione e ma sforzo extra ti sei calcato sotto praticamente balotelli si non mi sfondai il tiro verde no guarda che bastardo e oltretutto ho l'occhio spento ma non dovete pensare che sia di sti giorni io ho sempre l'occhio spento proprio così non ma ti dirò che cazzo ti guarda negli occhi quindi se qualcosa non mi venite a dire ma chi ma un po di enfasi negli occhi ma non ci può essere enfasi negli occhi come non c'ho le enfasi negli occhi non è un morto in realtà io infatti per questo dico che io dovrei fare gameplay solamente con l'audio però poi dopo mi cagano il cazzo no vogliamo vederti vogliamo che torni a casa dobbiamo continuare fiar noi siamo rimasti fermi alla quarta puntata io lasciata e sto cazzo è la quarta puntata e metteremo la webcam come ci avete chiesto ragazzi metteremo la webcam ci dispiace non averla potute mettere già prima però avevamo registrato quattro puntate tutte una presso all'altra abbiamo potuto sentire i vostri consigli sono in seguito e ma magari non faccio l'esempio di darti la palla e e poi anche urli vai ritorno micchia nella mia mera e radico fare e la rigole gravere per me tu non lo sai ma era di corre per me dove è moreno quando serve ma non morire io ho fatto tre tiede non ho segnato un muovo di segnare è toccato pure il mico scusate ma questo ci stava era rigore corri porca miseria corri ma perché ti fermi magari dopo proviamo a mettere una squadra un attimino più in gingham no poi facciamo una coppa dai facciamo noi due contro che non so squadre mega potenti abbiamo una squadra potente contro una squadra ancora più potente vabbè bel passaggio se dopo quando i giocamenti per questi passaggi qua vinciamo sicuramente fanno solo 50 gradi fuori scusate il ciuffo è l'unica cosa che mi rimane nella vita e non è non bello quello fatto vai vai no 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 ti faccio fallo ti faccio fallo in aria di rigore ma guarda me ne hai buttati giù due va tu sei bastardo fai i gol sul rimpallo ma non è però proprio fai gol sul rimpallo sei proprio una merda io ho scarto tutti come come gli utenti dicono vai culo devi scartare i giocatori e mi cercano cercano di insegnarmi qualcosa si sto cazzo ti insegnano ah stai offendendo i nostri utenti in questo caso eh stai offendendo il suone allora non prendetevelo a male ma francamente gli avete insegnato male a sto qua francamente non è proprio in segnato male non so giocare tu fai i gol di rimpallo ma non è vero guarda 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 questo gol guarda toh ti è andata di puro ti è andata di puro bang non ti preoccupare sto arrivando che cazzo madonna vai vai ma vaffanculo ma vaffan ragazzi stiamo 1 a 0 non facciamo stronzate mi chiamolo il nervosisco bimbo fava pappa milafava pappa milafava e poi che altre cose che altre robe dice pappa non ne odia ma magari correre un po' di più wow mi hai sciso non è vero mai ma non è vero mai ma non è proprio vero ma madonna mia quello si andava dentro bellissimo ah si no no dai ma no vedi 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 ma vaffanculo ma sei violento ma tu ti butti a terra fai gioco fai gioco scorretto ma non è vero proprio guarda ma è appena demolition ma non è vero ma è stata di merda guardatelo guardatelo vaffanculo vada dietro non me ne frega sto bastardo mamma 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 dai 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 fu minchia questo era fallo sbattimi fuori stronzo no vaffanculo questo deve essere un fallo questo è peggio di un fallo lo rifaccio di nuovo con lo stress dove cazzo vai oh novantesimo novantesimo dai che ce la faccio dai no non ce la fai mai è mai rubato la palla era interruzione e curo vince e curo vince ne ripariamo dopo che faccio un po' di pratica va bene dentro qualche anno tra quando ci rincontriamo di persona vabbè ma possiamo giocare online si conosciuto quando si combina si fa 15 no 14 prendo che cazzo prendo qui ma che cazzo e vabbè devo andare a spendere 60 euro e tipo io mi gioco nuovo però porca puttana nooo ma tanto sono uguali adesso francamente che cazzo cambia da fifa fifa ci sono quelli che mi dicono nooo ma da fifa fifa cambia un mondo ti si apre un anfiteatro di cazzo messi stiamo per perdere 150 iscritti non me ne frega un cazzo ma è vero ma scusate ma che cazzo cazzo ti ricordo quando io dissi watchdog si prenderono 7 iscritti ma magari sono io che ciao ragazzi è stato un becino a vermi come iscritti ma magari sono io che non vedendo non giocandoci a fifa da anni però informandomi solamente non capisco il senso ma che cazzo cambia sono le stesse cose cambia solo un pizzico di grafica ma tipo come ho già detto la modernità carriera che ti danno le 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 che come cazzo si chiamano i soldi lo stipendio a che cazzo ti serve implementa quello figa anche io mi vado a comprare il 15 che cazzo cambia dal 14 mo c'è la realtà aumentata no no ma dimmelo ma dimmelo cosa cambia è quello che vuoi vabbè comunque ragazzi ci vediamo su fifa 15 tutti insieme no scherzo fifa è stupendo lo adoriamo eeeh fifa come gioco è bello e per oggi tutto ci vediamo alla prossima punto ciao ragazzi sono grandi i gamer indicibili i i i i i i i i i